Inaugurata all'interno della sede municipale SITA nella frazione di Nelito di Crogna Leto la sala operativa comunale, dotata di tutte le attrezzature all'avanguardia, quali cartografie dettagliate, monitor, telecamere, postazioni informatiche, impianti satellitari necessarie al fine di monitorare, prevenire e gestire eventuali situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi sul territorio di competenza e fornire quindi una risposta adeguata, tempestiva ed efficace anche a supporto del centro operativo comunale previsto dal piano emergenza comunale di protezione civile che tutti i comuni sono obbligati ad adottare. Un giorno importante per un doppio motivo, intanto presentiamo alla collettività e al mondo istituzionale la sala operativa del comune di Crogna Leto, un prototipo che io spero venga ripetuto in tutte le amministrazioni per quello che è la valenza dello strumento, per quella che è l'operatività che l'amministrazione si pone a dare nel momento della difficoltà della collettività. Una sala operativa che va da Monte a Valle, una sala operativa che coniuga la montagna con il mare, Crogna Leto con Pineto, con tutti i pezzi di territorio che sono lungo il percorso dell'asta del Vomano per il drum break della diga di Campotosto e per qualsiasi altro scenario emergenziale che dovesse venire a crearsi. L'altro aspetto, quello più importante, quello più morale, quello che ci lega e ci fa ricordare il momento della difficoltà dell'emergenza è l'intitolazione di questa sala operativa. Benito Barnabèi, un nostro dipendente, una persona a modo, una persona che aveva nel suo essere l'emergenza e aveva nel suo cuore e tanto a cuore la collettività di Crogna Leto. Quando l'amministrazione ha deciso di intitolare questa sala operativa a Benito Barnabèi, quando abbiamo deciso in consiglio di esprimere questo consenso unanime e perché Benito lo meritava e credo che sia un buon ricordo e lo abbiamo nominato il padron dei territori di Crogna Leto.